Allora, è un evento, una rievocazione storica sull'assedio saraceno in epoca Longobarda, nell'anno 871-872. Quindi noi come gruppo di rievocazione storica abbiamo deciso di rievocare questo episodio della storia della città di Salerno, che fu molto importante perché poteva in qualche modo cambiare la storia della città nei secoli successivi. Allora, l'evento si terrà il sabato 13 e domenica 14 giugno, presso il Tempio di Pomona, davanti al Duomo di Salerno. Parteciperanno quattro gruppi storici, quindi il nostro, quindi Genza Longobardorum, Forte Braccio Vere Grenze di Monte Granaro, nelle Marche, Imperiales di Foggia e Benevento Longobarda di Benevento. In tutto saremo circa 45 persone. Allora, il programma inizierà alle ore 17, dalle 17 alle 18 ci saranno attività didattiche per bambini, quindi impareranno la storia di Salerno e dei Longobardi giocando. Poi dalle 18 in poi, fino alle 20 e 30, ci sarà la visita agli allestimenti e alle 20 e 30 ci sarà poi la vera e propria rievocazione storica che sarà divisa appunto in tre momenti, che poi porteranno a quella che è l'evento principale, che è la battaglia tra i Longobardi e i Saraceni, che avverrà appunto al centro della piazza, che è quindi l'evento principale. Il giorno dopo invece si partirà anche la domenica alle 17, quindi dalle 17 alle 18 attività per bambini e poi dalle 18 alle 21 visita all'allestimento. Inoltre ci saranno la domenica anche un torneo di tiro con l'arco tra Longobardi e Saraceni e duelli, con spada, lancia, spada e scudo, sia tra Longobardi e Saraceni che tra Saraceni e Saraceni e Longobardi e Longobardi. Quindi ci saranno tutte queste attività. In più c'è anche la taverna medievale, il sabato e la domenica a cura della bottega San Lazzaro.